muovi, esce oh, che vuole oh, oh mi dobbiamo vedere meglio muovi, quanto non mi rende, è vero oh, la, penso di sì penso di veramente di sì no, la, vediamo se lo vedete bene oh, la, vediamo 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 oh, la via oh, la, vediamo bello come vedi? a facciamo come vedi bene amo? che questo è tutto un test tu sei tutto un test qua è tutto un test non è che ciao come vedi? meglio? meglio del previsto dovrebbe essere pure tutto sincato guarda quest'altro dovrebbe essere tutto sincato tutto bene? se gode se gode davvero? tu sei tutto bene? non laggo? non succede niente? crema viaggi alla grande oh ma ho visto pure la telecamera nuova sta a vedere che roba occhiolino e innamo? avendo questo è il secondo account lo fa pure i raivats dove fa una clown fiesta sto profilo basta vedi con chi sto a giocare a mezzo al campo? con brian comunque basta che siete bene e non lagga perché oggi c'è avuto tia guarda chris molling va contro cristiano ronaldo becca no vi ho guardato a destra meno male comunque non c'ha un senso qua la carta di ronaldo è una controllata come vedi? si vede bene che taglio? meno male va 7 e 20 7 e 20 blur mamma che guarda che lo stermano ok mamma mia che faro mazza quanto è grosso il game di istante ma che tassero non è che era sempre il coletto però oh ma tutto bene vedete ma è una bomba dove vedi con i pacchi dovrei vedere brian illuminami sì guarda che sto a vedere che clown fiesta sto gioco mamma mia questo è più forte del giorno no no potete vedere me la vado guarda sta bandiera oh oh no come davvero come coglioni fotogrammi persi 0 computer 52% e siete pure bene stocks perfetto 65% così ok però se chiudo questa ma che cazzo me prega niente crema tu 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 no ma se c'è contro me capito ma che davvero che palo ok Grazie.